E' stata chiamata doppio gioco una delle più imponenti operazioni antidroga mai registrata nelle Marche. Una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminità Organizzata e il coordinamento del generale Alessandro Barbera, comandante delle Fiamme Gialle delle Marche. Un'operazione che ha permesso di smantellare una delle più grandi organizzazioni criminali dedicate al traffico di droga mai rilevate nella nostra regione, ovvero una organizzazione che aveva base operativa nelle Marche per poi ramificarsi fra Belgio, Olanda e Germania. L'indagine ha infatti permesso di ricostruire traffici per circa 700 kg di droga fra cocaina e hashish movimentati in tre anni per un giro d'affari complessivo pari a circa 35 milioni di euro. 12 gli arresti, 10 dei quali di origine albanese, sono stati emessi dai jeep di Ancona e Pesaro all'interno di quella che era una struttura criminale che gravitava principalmente nelle città di Porto Sant'Elpidio, dove è stato individuato il capobanda, di Monte Marciano, dove due operai edili tenevano i contatti, e di Civitanova, dove una coppia di insospettabili era diventata il corriere di riferimento. Altre 22 le persone denunciate in un'operazione che ha permesso di sequestrare 50 kg di cocaina, 5 automobili e beni per oltre un milione di euro. Le indagini, iniziate nei primi mesi del 2020, hanno permesso di ricostruire un quadro in cui la banda era divenuta il riferimento dell'approvvigionamento di stupefacenti, importandola direttamente dai porti del nord Europa per poi smistarla nelle marche verso tutto il centro Italia. L'operazione è nata nel territorio cominciando ad analizzare i fenomeni di flusso di spaccio, in particolare nelle città di Fano e Civitanova. In quest'ultima si è verificato il caso che nel 2020 ha dato avvio alle indagini, ovvero quando fu scoperto un ex collaboratore di giustizia, rifornire pusher di Ancona, Macerata, Pesaro e Fermo. Partendo dagli stessi pusher, gli uomini della Guardia di Finanza hanno ricostruito la piramide dello spaccio fino ai suoi vertici. Un'operazione allargata sia macchia d'olio col coinvolgimento di oltre 100 finanzieri intervenuti nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo e Frosinone. Indagini che hanno portato a rilevare come l'importazione di droga avvenisse tramite corriere dal nord Europa con base nella città tedesca di Aguisgrana e con depositi fra Belgio e Olanda nelle città di Rotterdam, Amsterdam, Bruxelles e Anversa. Il metodo di occultamento della droga prevedeva il trasporto in automobili dotate di doppio fondo attivabile da un pulsante vicino ai comandi del climatizzatore, in cui doppi fondi circolavano quintali di stupefacente. Grazie all'utilizzo di intercettazioni e programma di decifrazione di messaggi criptati, se così riuscite a scoprire il flusso delle attività criminali fino ad arrivare all'odierna raffica di arresti e sequestri. Grazie. Grazie.